Il corretto smaltimento di guanti e mascherine, oltre alla gestione dei rifiuti domestici durante l'emergenza sanitaria, impongono particolari accorgimenti che IREN ha reso noto in un comunicato e in attuazione alle disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna. Se si è positivi al coronavirus o si è in quarantena obbligatoria, non bisogna differenziare i rifiuti di casa sino al risolversi della situazione di contagio. Tutti i rifiuti vanno messi nel residuo utilizzando due o tre sacchetti resistenti, uno dentro l'altro, e ben chiusi con laccio o nastro adesivo. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso dovranno essere buttati nello stesso contenitore per il rifiuto residuo. Per le utenze in cui non sono presenti persone positive al virus, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata va invece proseguita normalmente. Il dettaglio delle indicazioni è sul nostro sito internet. IREN fa appello anche al senso di responsabilità di ciascuno, per evitare di disperdere nell'ambiente guanti, mascherine e altri materiali usati a protezione, che devono invece essere raccolti e conferiti nei contenitori per l'indifferenziata o nei cestieni stradali, avendo l'avvertenza per i guanti di rivoltarli uno dentro l'altro e per le mascherine di utilizzare gli elastici per richiuderli a pacchetto. IREN